Buon Natale! Ciao Willow! Buon Natale da parte di Willy! Oggi è Natale e buon Natale anche da parte di noi! Qua un casino! Dal frigo! Il congiunto nel frigo è... Vitto, buongiorno e buon Natale! E viva il tuo primo Natale! Il tuo primo Natale, Pistolino! Che bello! Che bello! Abbiamo inaugurato le tutine dei sei mesi perché è molto lungo, però quindi un po' gli stanno lunghe di braccia, ma... Ma se no, quelle da tre mesi non gli danno più, vero? Paterdino! Abbiamo compiuto da un paio di giorni tre mesi. E vieni amore! Buon Natale! Buon Natale! Adesso siamo alle prese con la cucina. E mettere tutto nel frigo e iniziare a cucinare così. Facciamo la colazione, poi si inizia a cucinare e poi dobbiamo spacchettare, amore, il regalo che ci ha fatto il Broget! E poi, ovviamente, so che te le hai tutti i regali, anche tu ne hai qui sotto, lo sai, amore. La cosa meravigliosa è che aprirò anche i regali di Vittorio. Fantastico, fantastico. E tu? Dove le hai lasciate, Matilda, amore? Dove le hai lasciate, Matilda? Matilda! Buon Natale, amore! Buon Natale anche a te! Vero? Sì, buon Natale! Amore, mamma, qui c'è sempre un gelosione, sempre un gelosione presente. Sempre un gelosione presente. Allora, il pacchettino arriva con un bellissimo bigliettino, che leggiamo insieme. Un dolce pensiero da condividere con chi ami, con tantissima affetta e gratitudine per la fiducia che riponi ogni giorno in tutti noi e l'impegno nel far diventare la nostra marca sempre più grande. E ne proprio così. E anche quest'anno la scelta di un regalo solidario, che contribuirà a sostenere l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e il Fai. Bellissimo. Bella, bella, bella. Apriamo bene il regalo, il brochet. Siete pronti? A parte vedere il nastrino. Fantastico. La scatolina rimarrà sicuramente nel mio tempio delle cose brochet che tengo gelosamente, che studisco gelosamente. A parte che ha anche un bellissimo colore neutro, che si intona benissimo con la mia vita praticamente. Voilà. Siete pronte? Ma che meraviglia! Soccolata! Aspetta, leggiamo un attimo qua. Certificato di garanzia. Qui c'è praticamente, a parte del regalo, è stato devoluto sia per il sociale e per l'ambiente. Quindi sia per i Bambini Gesù che per il Fai, fondo per l'ambiente italiano. Fantastico. Quindi, praticamente in collaborazione con il Paniere Serafini per il sociale, si regala un sorriso ai bambini del Bambini Gesù e il, insomma, anche per proteggere il fondo per l'ambiente italiano. Fantastico. Stavo leggendo. C'è anche un QR code. Ha ricevuto una confezione regalo creata e progettata da Paniere Serafini, frutto della più attenta e accurata selezione di prodotti di packaging più assidati per unire tradizione, qualità ed eleganza. Il Paniere Serafini sceglie e confeziona con originità i prodotti 100% italiani di alto livello qualitativo. Bellissimi, vediamo un po'. Sono schietti i gusti. Allora, abbiamo tre. Siamo a un gianduiotti. Eh, infatti, gianduione. Gianduiotti giganti. Ma questi, cioè, tipo si taglieranno col coltello. Meravigliosi. Troppo belli. Gianduiotti giganti, non l'ho mai visti. Congiunto, tu l'avevi mai visti, gianduiotti giganti? No, è la prima volta. Grazie. Mangeremo i gianduiotti giganti. Ti l'assaggiamo subito, no? Ma i colori sono, cioè, i sapori sono uguali. Vediamo un po'. Ah, no, questo è il caramello. Questo oro è A. Classico nocciola torinese. Questo verde sarà pistacchio. O menta. No, pistacchio. Questo congiunto è per te. Sì. Pistacchio, caramello e classico. Apriamo il pistacchio. Apriamo il pistacchio. Apriamo. Sì, sai che colore avrà il gianduiotto al pistacchio? Scrivetemi qua sotto, secondo me, che colore avrà. Sarà verde o sarà marrone con i pistacchi dentro? Secondo te congiunto? Secondo me è normale il colore cioccolato. Con i pistacchi? Sì, è aromatizzato. Ah, no, eccolo il pistacchio. Attenzione. Attenzione. Non ce l'ha pensato nessuno. Pronti, al taglio? Ok. Buono. Assaggiamo. Andiamo all'assaggio. Andiamo con l'assaggio. Buono. Volete un petto? Buonissimo. Già andogliotto al pistacchio top. Sì, adesso l'assaggio io però. Tocca a te. Sì, adesso l'assaggio io però. Buonissimo.